Al termine di questo progetto posso affermare senza alcun dubbio di portare a casa una maggiore consapevolezza sia dal punto di vista professionale che personale, dato che grazie alla comprensione, alla disponibilità e all'esperienza della mia mentor, il mio percorso è stato costellato da momenti di confronto e spunti di riflessione molto preziosi per le scelte future che prenderò. Ritengo che questo percorso possa essere utile e valido a chiunque si affaccia al mondo lavorativo per avere una guida, un confronto e un appoggio per decodificarlo e prendere le scelte migliori per sé. Ritengo di uscirne arricchita dal punto di vista professionale, maggiormente consapevole delle opportunità attorno a me e dei percorsi futuri che voglio intraprendere e sicuramente maggiormente serena, consapevole di essere solamente all'inizio e avere ancora tanto tanto da scrivere. Grazie 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 Grazie